Lei sa cosa sono le sentinelle in piedi? No, è un movimento che difende il matrimonio tra uomo e donna Noi ormai siamo già sposati Siamo più da 50 anni insieme, non abbiamo bisogno di altro E invece cosa pensa dei matrimoni più recenti tra uomo e uomo, donna e donna? Uno schifo, sinceramente non mi piace Ma non le piace per quale motivo? Ma perché Dio ha fatto uomo e donna per fare famiglia insieme E questo... E i bambini adottati dalle coppie omosessuali in altri paesi? Insomma, che devo dire, meglio che niente Solo che avrebbero bisogno di un papà e di una mamma I gay possono fare ciò che vogliono Sono persone umane come noi, se si vogliono sposare che lo facciano pure Per me non ci sarebbe nessun problema L'adozione dei bambini? Quella è già un'altra cosa Quella direi di no Per quale motivo? Il motivo sarebbe praticamente che magari loro essendo così Gli possono trasmettere magari la mia idea Posso anche sbagliarmi Gli possono trasmettere magari le loro idee, le loro cose E magari il ragazzo sentirsi un attimino più spinto verso... Confuso? Ecco, bravo, sì Con me possono anche farlo C'è un libro di farlo Con i medesimi diritti di un matrimonio, diciamo, normale? Perché no? Quindi si può pensare a una famiglia che non sia basata solo su uomo e donna? Sì Perché no? Se alla fine, anche se adottano un bambino, così Alla fine se il bambino sta bene, l'importante è quello, no? Ognuno è libero di fare quello che vuole, nel senso Quindi quei medesimi diritti, diciamo, di una famiglia, chiamiamola così, tradizionale? Sì Io penso di sì Io la penso così almeno E per i bambini? Per i bambini basta che crescano con il giusto, con il giusto Esatto Non cambia, secondo me Alla fine l'amore è l'amore Per persone sono tutte uguali, quindi non trovo differenza Quanto si può ancora prendere alla lettera, diciamo, il precetto della Bibbia Il precetto ai cristiani, adesso al di là, magari, dei matrimoni? Beh, quello alla fine va da persona a persona Chi, come magari è nato, che aveva dei genitori, che lo portava spesso in chiesa Magari si è predisposto di più andare e a seguire un orientamento Quello va a seconda di persona a persona Si può ancora considerare moderno? Beh, moderno penso che non si possa nemmeno definire Neanche una volta Perché alla fine la religione va da quello che si sente dentro Penso Poi io non sono credente, quindi non ti so dare una risposta ben precisa Ti posso dire come ragiono io riguardo a questa cosa Come ragioni tu riguardo a questa cosa? Che io non sono credente, quindi non ci penso Cioè, io sarei pro per queste cose Te che sei giovane, secondo te quanto è moderno la Bibbia In alcuni suoi messaggi e la religione cattolica? Io non sono credente No, ma in generale, non per forza, devi crederci Cioè, quanto sono moderni i suoi messaggi? Pochissimo 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 Lei, cosa ne pensa un altro dei matrimoni tra omosessuali? Benissimo, non vedo l'ora Di sposarsi lei? Sì No, io sono già sposata da 53 anni, quasi 54 Non vedo l'ora che siano parificati? Sì, certo Non vedo l'ora E sull'adozione? Anche Perché l'amore guarda Non ha confini? No, infatti Non vedo l'ora